A Banoa ha dato comunicazione ai comuni interessati di aver consegnato i lavori di efficientamento reti idriche all'ACI distretto 6 lotto 6.2 relativi a un maxi appalto da 7 milioni e mezzo di euro di fondi cipe, lavori che prenderanno il via a settembre. L'intervento più massiccio riguarda il comune di Ploaghe dove saranno realizzati circa 5 chilometri di condotte in buona parte nel centro storico che ha visto negli anni numerosi interventi di riparazioni di tubazioni logore e corrose come pure in zona Sadanka e Sugalonigu e la parte alta della cittadina. Le nuove tubazioni saranno in ghisa sferoidale, protette con zincatura e strato bituminoso e il sistema prevede pozzetti e sfiati, saracineschi di intercettazione e gli allacci alle utenze. Nella posa delle nuove condotte si procederà alla georeferenziazione che renderà assai facile una successiva localizzazione per eventuali manutenzioni future. Gli altri comuni interessati dai lavori sono Banari, Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codronianos, Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Pozzo Maggiore, Tiesi e Tissi. Il sindaco di Ploaghe Carlo Soggiu, soddisfatto, ricorda che nel 2015 si doveva far ricorso alle autobotti e le tante richieste ad Abanoa che negli anni ha rimediato a svariate emergenze. E così commenta. Con questi lavori puntiamo a risolvere definitivamente i problemi di distribuzione dell'acqua nel nostro paese. Ovviamente un cantiere così vasto comporterà dei disagi, ma siamo certi che i nostri concittadini comprenderanno l'importanza di queste opere.